Tadami F si preparano Donati Elena, Donati Giulia Al Tadami F si preparano Al Tadami Maestro Anna Codanuti Noeri Al Tadami C maestrellini e Cici Pellini Al Tadami E la categoria 52 punti Maestro Anna Codanuti Noeri Al Tadami F si preparano Al Tadami Maestro Anna Codanuti Noeri Seconda giornata Al prossimo incontro si preparano Kilogrammi 57 punti pari Al Tadami Maestro Anna Cintura Bianca Centro Sportivo Comiglia E con all'ultimo Eni Gino Pagno Nipoli Ciccura Bessa F si preparano Al Tadami ma wetnare I p i xyb mq E l xm Moje Suffok Moje camak Moje nge Moje nge Moje nge